Buongiorno, Orchidea di Mirosola, Orchidea di Medicina per l'Anima. Vi ricordo sempre il nuovo libro Orchidea, storia e personaggi, 3 edizione, 369 pagine, costa 26 euro, 45, e l'ho scritto io. Allora, oggi volevo parlarvi, per il decamerone delle orchidee, ogni giorno una storia, finché dura questa roba qua del virus, oggi volevo parlarvi, c'è stato un periodo che si credeva che ci fosse un'orchidea carnivora. C'è stato per un breve periodo veramente che si pensava che esistesse davvero un'orchidea carnivora. Era successo che in Australia, in un vecchio cemitero di nativi abbandonato da anni, si erano affiorati delle ossa e era capitato che un'orchidea sembra un dendrobium è nata su un teschio, ma poteva nascere benissimo da qualsiasi parte, su un sasso, su un tocco di legno. Questo qui è capitato bene, un semi di un dendrobium è nato su questo teschio e quando è stato trovato questo teschio con c'è un'orchidea si pensò che fosse un'orchidea carnivora e questa orchidea carnivora è stata portata a Londra, venduta all'Astra, una cifra pazzesca. In realtà non esistono quelle orchidee carnivore. Tutte le orchidee, anzi non esistono le orchidee parassite, sono tutte a limite, sono epifite, cioè vivono sugli alberi, nelle zone tropicali la maggior parte vive sugli alberi, ma non fa nessun danno all'albero, cioè l'albero serve solo come sostegno. La pianta si serve all'albero solo come sostegno, infatti quando facevamo le zattere ai primi tempi mi ricordo che avevamo i manici di scopo, i manici di scopo una volta erano di legno e quando le scopo erano finite, non andavano più, tagliamo i manici delle scopo, li tagliamo a pezzettini, poi li aprivamo che in metà facevamo tante zattere. E andavo benissimo, cioè va bene qualsiasi pezzo di legno, va bene, le reti, va bene delle reti. Tanti anni fa in Germania, in una mostra in Germania, abbiamo visto un collega tedesco che coltivava le chiloschista su delle reti di plastica. C'è stato un periodo, qualche anno fa, che eravamo senza sughero, senza corteccia e allora ho preso un po' di queste reti, le abbiamo tagliate fuori, abbiamo messo su, mi ricordo, un sacco di chiloschista, di SIGMATO STALE, sanzi, qualcuno ce ne giro ancora nel video di domani, ve la faccio vedere. Allora, ieri avevo dato dei consigli per dei libri, ci sono altri due libri molto importanti per le orchidee. Uno è Il fiore degli dèi, veramente un libro italiano bellissimo, scritto da Luigi Berliochi, che è morto quasi subito dopo aver pubblicato il libro. È un libro di, penso, una ventina, 15 anni fa, però un libro veramente bello, sulle orchidee in generale. Invece sulla coltivazione c'è un manualetto veramente molto molto bello, molto molto utile perché è molto pratico, scritta da un'appassionata italiana che si chiama Chiara Russino, di Verona. È veramente un libro che vale la pena di leggere perché è molto pratico, molto conciso, dà un sacco di suggerimenti utili. Oh, soprattutto leggete il mio, mi raccomando, Orchidea Storia e Personaggi, terza edizione, scritto da me. Ok, al prossimo video, grazie.